Le Marche sognano la zona bianca, la data probabile è quella del 14 giugno, dunque altre tre settimane di attesa. Ad oggi infatti la Regione non ha ancora i requisiti richiesti per uscire dal giallo, ovvero l'incidenza settimanale dei contagi inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per 21 giorni consecutivi. Per due giornate le Marche hanno registrato meno di 100 contagi, ma a fronte di un numero basso di tamponi. Nell'ultimo report invece si contano 132 positivi in tutta la Regione. La leggera risalita del numero di casi è dovuta però anche all'aumento dei test che nelle ultime 24 ore sono stati 3.997, 1.991 nel percorso delle nuove diagnosi e 2.600 in quello dei guariti, con un rapporto positivi testati pare al 6,6%. I nuovi contagi sono distribuiti in maniera equa tra le province di Macerata e Pesaro Urbino, 33, 26 invece in provincia di Ascoli Piceno, 19 in provincia di Ancona, 12 in provincia di Fermo e 9 fuori regione. Questi comprendono 29 soggetti sintomatici. Dando uno sguardo invece a contagi nelle scuole, i contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione sono 11, mentre altri 20 casi positivi sono emersi dallo screening antigenico sui 473 test effettuati.